Un cucciolo di orso ritrova la madre. La buona notizia di oggi arriva dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che rassicura quanti per la vicenda del piccolo plantigrado sono rimasti con il fiato sospeso. Si tratta di un caso mai documentato in Italia. La storia è completamente diversa da quella dell'orsa Sebastiana e dei suoi cuccioli che abbiamo già raccontato. Il 15 agosto scorso un cucciolo di orso Bruno Marsicano, trovato solo lungo una strada all'interno del parco, si è ricongiunto alla madre grazie all'operazione dei tecnici del servizio scientifico e di sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Durante la settimana di ferragosto è stata segnalata la presenza di un cucciolo di orso Bruno Marsicano a bordo strada, da solo. Il parco, con i suoi servizi tecnici, con i guardi a parco, si è subito attivato per osservare il cucciolo e cercare di comprendere cosa potesse esserli accaduto. In accordo con l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, l'ISPRA, e il Ministero dell'Ambiente, si è stabilito di mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire il ricongiungimento del cucciolo con la madre. Nella stessa area, infatti, i tecnici del parco, durante le sessioni di monitoraggio per la conta delle femmine con i cuccioli, hanno verificato la presenza di due nuclei familiari. Diverse esperienze europee e internazionali documentano che i gruppi familiari possono ricongiungersi fino a 14 giorni dopo il verificarsi di eventi traumatici. Inoltre, sono stati anche documentati casi di adozione da parte di altre madri. I biologi del parco erano fiduciosi che anche nel caso in cui il cucciolo non si fosse associato a nessuna femmina, sarebbe voluto sopravvivere. Il 15 agosto il cucciolo, un maschio in buone condizioni di salute, è stato catturato meccanicamente senza anestesia per ridurre al minimo le manipolazioni rilasciato in quota nell'area di presenza delle femmine. È apparso subito reattivo e si è allontanato immediatamente dagli operatori. Per i successivi giorni, il personale del parco organizzò turni di osservazione sia al tramonto che all'alba. Il 17 agosto si è avuta la certezza che il cucciolo si fosse ricongiunto a una femmina con due piccoli. Da quel momento, fino a qualche giorno fa, i tre cuccioli sono stati sempre osservati insieme alla madre. Ogni tanto le storie agli etofine accadono. E anche tutti gli sforzi di chi in quest'estate calda, non solo meteorologico, non si è fermato, né giorno né notte vengono premiati.